buongiorno oggi ultimo giorno d'inverno e qua stanno già preparando per le pulizie primaverili la spiaggia è abbastanza pulita ora questa roba qua la bruceranno la roba grossa la si porta via con con i camion ora andiamo a vedere l'acqua com'è l'acqua sarà fredda ovvio ovvio come l'acqua non è proprio gelida però pensavo che era più freddo no no non è proprio gelido assolutamente assolutamente comunque è una giornata stupenda oggi è una giornata stupenda ci sono 15 gradi quasi 16 e il panorama è fantastico oggi si sta da dire una giornata così oggi me la me la merito punto di domanda ma si è un po tutto ancora da sistemare però non si può pretendere il massimo anche perché c'è ancora tempo quindi fino a pasqua di solito non fanno non fanno nulla per la settimana di pasqua si trova già tutto a posto anche qua andrà livellata la spiaggia avevano arrivato i sassi tutti questi 18 li verrà allevati e viene tutto livellato quindi sarà tutto a posto e soltanto che le mareggiate d'inverno portano queste cose qua portano queste cose qua perché sono proprio dei bei scalini sono proprio degli bei scalini addirittura ci sono in certi punti dove c'è proprio un dislivello di quasi un metro e non è poco vabbè violato il buongiorno e mo col mare ci avviamo verso casa oggi sono più morto quindi dovrebbe andare abbastanza tranquilli bene buona giornata a tutti